Prevista per domani, 11 luglio, alle ore 10.30, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la presentazione del progetto Azioni per la Conservazione dei Nidi di Tartaruga Marina Comune Caretta Caretta nel Cilento, che vede coinvolti il Parco e Stazione Zoologica Anton Dorn, Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici. Il progetto di durata triennale prevede l'attivazione di una serie di azioni di conservazione e di sensibilizzazione nel parco e nelle sue coste, unici siti di produzione regolare della tartaruga marina comune, oggi presente nel Mediterraneo occidentale. Gli obiettivi specifici del progetto sono proteggere tutti i nidi di tartaruga marina deposti nel Cilento, aumentando il numero di neonati che raggiungono in sicurezza il mare, studiare i diversi aspetti di questo importante fenomeno, fenologia della nidificazione, successo riproduttivo, idonietà dell'habitat, cartaffiliazione demografica, incrementare il livello di sensibilizzazione e conoscenza delle comunità locali al fine di favorire il loro coinvolgimento nel monitoraggio e nella protezione della tartaruga marina e più in generale della biodiversità nel Cilento.